Dobbiamo prepararci alla guerra. Prepariamoci, dicono, allo scontro diretto, ma soprattutto, aggiungo, prepariamoci ad un'economia di guerra. Parlano persino Putin di una terza guerra mondiale su vasta scala. Hai capito bene? Queste non sono le mie parole, ma sono le parole dell'Unione Europea e di Putin, che andiamo a leggere insieme. Dall'Europa il Presidente del Consiglio Europeo dice che se vogliamo la pace in Ucraina, ci dobbiamo preparare alla guerra, perché è così che si prepara la pace. E aggiunge, serve spendere di più per la difesa e produrre più munizioni. Dice e aggiunge che bisogna prepararsi ad un'economia di guerra. A due anni, adesso arriviamo alle parole di Putin, dall'inizio della guerra è ormai chiaro che la Russia non si fermerà in Ucraina, così come non si è fermata dieci anni fa in Crimea. La Russia rappresenta una serie minacce militare per il nostro continente europeo e per la sicurezza globale. Se la risposta dell'Unione Europea aggiunge non sarà adeguata e se non forniamo all'Ucraina sostegno sufficiente per fermare la Russia, saremo i prossimi. Insomma, la narrazione dell'Unione Europea mi pare abbastanza chiara. E Mario Draghi ancora non è diventato Presidente del Consiglio Europeo. Di fatto l'Europa sta per decidere, signori, su uno scontro diretto. Tutto ciò avviene mentre Putin fa ulteriori dichiarazioni, sfruttando la conferenza stampa post-elezioni, dove ha ottenuto l'87% dei voti. E qui avverte gli Stati Uniti, l'America e l'Europa. E dice che una terza guerra mondiale su vasta scala, queste sono le testuali parole, è possibile se qualche truppa occidentale entrasse in Ucraina. Ovviamente sono affermazioni che arrivano dopo le parole del Presidente francese Macron, come sapete, di mandare truppe europee, francesi, in Ucraina. A questo proposito Putin ha detto, Penso che tutto sia possibile nel mondo di oggi, ed è chiaro a tutti che questo sarebbe un passo verso una terza guerra mondiale su vasta scala. Su vasta scala perché? Perché a tal proposito vi devo ricordare che da qualche giorno l'intelligenza americana ha lanciato degli allarmi che entro qualche settimana potrebbe esserci degli attacchi dal lato della Corea. Il Presidente russo ha aggiunto che il personale militare della Nato è già presente in Ucraina e che l'intelligenza russa ha osservato che a volte sul campo di battaglia si parla in inglese e francese. Non c'è niente di buono, dice in questo, innanzitutto per loro, perché stanno morendo lì e in gran numero. Putin a questo punto ricorda che non vogliono dare via a Russia, non vuol dare il via libera, almeno temporaneo, all'Europa, ma vuole un accordo definitivo. L'ho detto più volte e più volte lo dirò ancora. Siamo favorevoli ai colloqui di pace, ma non solo perché il nemico è a corto di proiettili. Se davvero, seriamente, vogliono costruire relazioni pacifiche e di buon vicinato tra i due stati a lungo termine, e non semplicemente per prendersi una pausa per il riarmo per uno barra due anni. Poi si ritorna, Putin ritorna, sull'argomento del momento, almeno sui media nazionali, sulle telefinzioni, l'argomento della democrazia, che fortunatamente, anche purtroppo per il corso degli eventi, più cittadini stanno comprendendo, che è una farsa. Putin dice rispetto all'America, il mondo intero ride di ciò che sta accadendo lì. È solo una catastrofe, non è democrazia. Cosa diavolo è? Ora, magari qualcuno di voi penserà che la Russia è una democrazia, che l'America è una democrazia, che la Wonderland l'avete votata voi, o il futuro presidente del Consiglio europeo o della Commissione europea. Io non entro nel merito degli schieramenti. Dico solo che chi crede a queste battute, per quanto mi riguarda, fa ridere i polli. Insomma, ad oggi noi abbiamo un risultato. Putin per i prossimi sei anni. Trump potrebbe arrivare per l'inizio del 2025, per quattro anni. E poi ci saranno le elezioni in Unione Europea. Vediamo dove sarà e se sarà collocato da qualche parte il Super Mario Boss, per completare e fare l'unplane. Saranno questi, no? I protagonisti delle democrazie mondiali, così democratici, che appunto vanno contro il volere del popolo. Sì, è vero. So cosa stai pensando. Con Trump lo scontro con la Russia si alleggerirà, ma lo scontro con la Russia, non so se vi è chiaro, lo porterà avanti l'Europa e la Nato. Con Trump o senza Trump? Il Presidente americano invece si concentrerà sul waltzer cinese. Vi ricordo che Trump è il nemico numero uno. Lo vede proprio nella Cina, che sta lavorando sulla questione Taiwan. Non dimenticando, senza se e senza ma, l'appoggio dei repubblicani di Trump a favore di Israele. Insomma, c'è poco da ridere sul futuro. Questi sono eventi che vivono degli alti e bassi, degli archi temporali. E dal mio punto di vista qui ci sono solo da preparare dei pieni B, soprattutto a livello economico, per quello che potrebbe comportare per alcune aziende tutto quello che accade, o meglio, che accadrà. E ognuno dovrebbe un attimino concentrarsi sulla propria vita. Perché la nostra generazione, ma anche le generazioni prima della mia, non hanno mai vissuto una situazione del genere. E soprattutto la storia si ripete, ma non si ripete mai allo stesso modo. Chiudo con quest'ultima notizia, che arriva dalla Russia, che a quanto pare ha tutte le intenzioni di prendere ulteriori territori di confine, appunto, tra la Russia e l'Ucraina. Per creare una zona coscinetto, onde evitare, insomma, tutte le azioni che dall'Ucraina sono partite in questi mesi nella parte russa, soprattutto nelle città subito confinanti, no? Anche se qualcosa abbiamo visto, qualche drone abbiamo visto schiantarsi su qualche palazzo persino a Mosca, a San Pietroburgo. Non escludo, dice Putin, che tenendo conto dei tragici eventi che accadono oggi, ed intende proprio gli ultimi attacchi che ci sono stati nella cittadina, proprio lì al confine tra Ucraina e Russia, nel territorio russo, saremo costretti, prima o poi, quando lo riterremo opportuno, di creare una zona sanitaria nei territori oggi sottomessi al regime di Kiev. Putin, inoltre, ha spiegato che questa zona di sicurezza sarebbe molto difficile da superare per l'avversario, quindi un virgolettato, con le sue armi, soprattutto di origine straniera. Una sorta, dice, di corridoio, una sorta di zona cuscinetto che metterebbe fuori portata qualsiasi mezzo che il nemico potrebbe utilizzare per lanciare attacchi. Purtroppo, la direzione è questa. Purtroppo, la direzione è questa. Purtroppo, la direzione è questa. Purtroppo, la direzione è questa.